e buon salve qui dal vostro maestro hobby one per hobby benvenuti o bentornati sul mio canale come sempre vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella degli avvisi detto questo come vi avevo promesso oggi andremo a vedere la build del monaco dei cida ovvero il personaggio legato a tutti gli incantesimi dei cidi che sono quelli delle fiamme nere quindi oggi andremo a vedere dove si trova il sigillo dei cida e vi dirò a grandi linee dove si trovano tutti i punti dove potete reperire i vari incantesimi anche se devo essere sincero mi sono reso conto che questo personaggio è un pelo inutile nel senso gli incantesimi dei cidi fanno pochissimi danni perché hanno un bonus di danni nel tempo ma comunque calcolando il danno all'impatto e il danno nel tempo che viene aggiunto all'incantesimo stesso comunque non è che risulti molto forte però come ho già fatto vedere la cenere di guerra tornato di fuoco e lo spadone dei cida come vedremo oggi sono armi estremamente forti cioè diciamo che quello che perdono gli incantesimi in danno ce l'hanno le armi con le cenere di guerra ma detto questo andiamo alla guida bene questa che vedete è la build del monaco dei cida o monaco della fiamma nera scegliete voi come potete vedere dall'arma e dalle statistiche ho cercato di basare questa classe sul danno della cenere di guerra dello spadone dei cida perché fa un sacco di danni come ho detto prima gli incantesimi non è che siano un granché rispetto a quelli che sono che ne so gli incantesimi di fuoco dei giganti o del fulmine non hanno quel potenziale devastante qui viene compensato dalle cenere di guerra delle armi ovviamente spadone dei cida come arma primaria ma se volete un'arma diversa e magari basarvi sul tornado di fuoco e avere più danni da quello che sono gli incantesimi io per esempio ce l'ho sulla labarda come avete visto dalla mia ultima guida su questa classe ovvero quella dell'invasione del pvp da invasione con quest'arma voi fate la build come quella la ovviamente vi metto il link in descrizione e semplicemente cambiate gli incantesimi con quelli della fiamma nera alla fine non cambia nulla ovviamente il sigillo dei cida che dopo vi faccio vedere dove si trova ricordo che per massimizzare il danno degli incantesimi ve ne servono non uno ma due io ne ho due più 24 poi vabbè l'armatura è la solita quella di malenia quindi non calcolatela gli amuleti allora qui c'è quello di alexander che va a potenziare le cenere di guerra quello che va a potenziare i danni da fuoco ma a diminuire le difese e per compensare giustamente quello che va a aumentare tutte le difese perché questo e non quello che aumenta gli incantesimi è molto semplice perché voi alla fine usate due potenziamenti come incantesimi e a priori quindi del valore che abbiate non cambia nulla quindi è meglio aumentare le difese invece che buttare via un amuleto nel potenziale degli incantesimi che tanto non utilizzate e poi il solito che potenzia tutti i danni a priori quando avete la vita al massimo ovviamente c'è il balsamo con il potenziamento dei danni da fuoco e la cosa dei punti azioni al massimo scusate infiniti per 10 secondi così lo attivate in combattimento contro un boss poi lo vedete alle clip riuscite a non dico one shotare un boss ma quasi a nelle clip sappiate che ce ne sono tre se non mi ricordo male in una faccio proprio vedere la differenza cioè contro un boss utilizzo le magie della fiamma nera e contro gli altri due uso lo spadone dei cida poi sarete voi a valutare la differenza dei danni se volete anche adesso posso cercare di farvi vedere questa differenza adesso siamo sempre qui da godrig prima vi farò vedere i danni dello spadone dei cida allora partiamo con il proprio potenziamento secondo potenziamento balsamo e poi possiamo andare allora guardate ok non l'ho shottato ma gli rimane un quinto un sesto della sua vita massima quindi cioè immaginate voi i danni contro un boss normale l'ultimo video comportato era quello della cenere di guerra più forte del gioco però anche questa questa spada qui fa veramente tantissimi danni ah non l'ho ucciso volevo porre fino alle sue sofferenze e niente no ha ucciso il suo alleato ok adesso vi faccio vedere il danno di quelli che sono gli incantesimi e la cosa in realtà è molto semplice perché vi basta togliere quest'arma mettere il secondo sigillo togliere questo mettere quello che aumenta tutte le abilità caricate perché si tutte e dico tutte le abilità del fuoco nero ovvero tutti i vari incantesimi hanno la carica togliete quello che aumenta la difesa è andata a mettere invece il l'amuleto cosa questo sì quello che aumenta di molto il danno degli incantesimi allora di nuovo primo potenziamento di fuoco secondo potenziamento balsamo e poi si può cominciare come vedete il danno rispetto che ne so la build del monaco di fuoco non è così alto si è forte però secondo me contro i boss sono molto più forti le cenere di guerra in più questo incantesimo qua che è abbastanza lento e l'altro questo qui sono molto forti ma sono troppo lenti in più questo il vostro bersaglio deve necessariamente entrare in questo cerchio di fuoco e quindi basta che si sposti e già avete sprecato dei punti in battaglia secondo me l'unico utile alla fine è la palla di fuoco però non è che sia come avete visti danni non sono altissimi se volete vi faccio vedere un attimo anche quello lì il cerchio di fuoco nero che si chiamano tipo fiamme nere rituali qualcosa del genere allora potenziamento 1 potenziamento 2 attivano il balsamo c'è questo qui fa un sacco di danni nel tempo e lo potete continuare a attivare e come vedete i danni sono comunque alti dovrebbe essere quasi morto infatti ha tipo 2 hp è forte perché è comunque forte non dico di no però secondo me non conviene cioè contro un boss che si muove molto è completamente inutile detto questo allora prima di andare avanti anche perché l'unica cosa che vi farò vedere fisicamente è dove si trova il sigillo dei cida e il primo tomo che per saperlo si trova qui al castello di godrick vi dirò velocemente sulla mappa dove andare a reperire tutti i vari oggetti che utilizzo in questa build anche se poi in un modo o nell'altro comunque come sempre vi lascio tutti i vari link perché tipo lo spadone dei cida ho fatto il video delle sei armi più rotte del gioco quelle che uscite ultimamente e c'è la guida passo passo di dove andarla a prendere allora partiamo dalla mappa allora il primo oggetto come ho detto è lo spadone dei cida e si trova qui a caelid in questa torre qua c'è il primo boss sacri derma perché sì solo loro vi danno tutti i vari oggetti poi secondo cosa che poi andiamo a vedere fisicamente qui in questo punto del castello di godrick si trova il sigillo dei cida e il primo tomo secondo per chiunque se lo ricordasse all'interno di villa vulcano in questa struttura adesso non mi ricordo mi sa qui c'è il boss il sacri derma quello grosso che rotola lo battete vi dà la sua arma poi qui in alto qui ce n'è un altro nella zona dei mulini un altro sacri derma lo battete vi dà la sua lancia quello che fa il tornato di fuoco e la magia quella che avete visto che butta in avanti tipo quella fascia di fiammate nere che però non è molto forte poi gli altri quelli che vi danno la fiamma rituale quella lì quel cerchio di fuoco sono qui in questa grotta attenzione perché non sarà uno ma ben due dovrete battere in fila prima del sacri derma quello magro e alto e poi quello grosso quindi state molto attenti perché sarà molto molto difficile e poi gli ultimi due ovviamente sono i due boss che si trovano qua a falla masura in quest'area dovete batterli contemporaneamente quindi fate molta attenzione perché sono molto forti una volta sconfitti vi daranno il tornado di fuoco nero come cenere da applicare alle armi bene detto questo vi ho detto tutti quelli che sono gli incantesimi della fiamma nera e legati comunque a questa build poi ripeto tutti gli altri oggetti ve li metto sotto nei link in descrizione quindi in un modo o nell'altro li troverete bene ma adesso possiamo andare che vi faccio vedere dove si trova il sigilo dei Cida e il primo tomo ok eccoci qui ci troviamo in questo punto di gazia del castello di Godric prima eravamo qua quindi mi sono spostato proprio appena adesso da qui vi farò vedere dove si può andare dove si arriva al punto in cui si trova il sigilo dei Cida e il primo tomo dovete scendere giù di qua cioè in poche parole dovete tornare indietro letteralmente perché non tutti lo sanno ma a destra dell'entrata quindi a sinistra quando venite in qua c'è una scala qui voi scendete giù di qua io adesso ignoro i nemici perché tanto non mi interessa qua a parte i topi superate questi topi passate qui avanti qui ci sarà una porta da aprire con le soliti chiavi di pietra venite di qua qua ci sono questi due forzieri qua se non mi ricordo male c'è il tomo il primo questo è il primo tomo della fiamma nera e invece qui c'è il sigillo dei Cida maledettissimi topi ok noi ci troviamo esattamente in questo punto qui perché perché parevole passate all'interno ok finiti siete in questo punto qui voi ti dite conto che questo è il cortile praticamente da qua ho fatto tutto il cortile fino a qui quindi tomo sigillo il tomo lo portate o a corin o alla tartaruga solita dove c'è la chiesa dei patti e niente vi dà la fiamma nera e il coso il come si chiama l'incantesimo della della spada che l'avvolge di fuoco nero anche quello secondo me è utile in maniera molto relativa a meno che non fate delle build apposite con armi molto molto forti di base che poi andate a potenziare oppure così di base non è molto utile ah un'altra cosa intanto che siamo qua da questo punto una volta usciti qua potete arrivare molto facilmente all'entrata là in fondo per andare alla torre per attivare la pumaruna non so se vi frega ma intanto ve lo dico così magari vi può interessare bene detto questo per la build del fuoco nero è finita cioè le cose sono due ripeto o la fate tutta per gli incantesimi o la fate tutta per la cenere di guerra fare una via di mezzo non ha senso perché gli incantesimi non hanno troppi danni e quindi dovete massimizzarli invece le cenere di guerra sono OP perché sono veramente veramente forti e quindi massimizzarne il danno mantenendo pur una parvenza di resistenza perché grazie a questo amuleto comunque avete delle difese non dico eccellenti ma almeno accettabili riuscirete a utilizzare un personaggio molto molto forte sia in PvE che in PvP anche se in PvP io non sono molto pratico con questa build e poi mi saprete dire voi se effettivamente è forte o meno perché comunque lo spadone dei Cida ha uno stagger altissimo e in PvP prendersi una spadata nei denti di quest'arma vi fa fare il contaccolpo subito bene detto questo dal Mestre Obi-Wan per Obi è tutto vi lascio alle clip contro i boss ripeto valuterete voi poi i danni se effettivamente siano abbastanza alti per i vostri canoni come sempre che la forza sia con voi ci vediamo a un prossimo video grazie a tutti 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 grazie a tutti